Ok, Nico, allora cosa stai preparando a questa ragazza, Nico? Stiamo facendo una piega liscia perché questa serata abbiamo una finalissima regionale quindi stiamo facendo una bella piega liscia a questa bella ragazza E' una bella ragazza? La posso inquadrare? Un attimo, vediamo un po' la bellezza di questa ragazza Ah ok, come ti chiami tu? Manuela Manuela, tu dove hai preso la fascia? A Via Martello, da Napoli A Napoli, quindi sei napoletano? Sì Quanti anni hai? Deci Perfetto, in bocca al lupo eh? Prese Ciao